ahahah le persone si salutano capito? buonasera buonasera non è antipatica con me io sono molto antipatica no no ma la borsa per quella mica più no 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 non è vero adesso sei il più bravo si si va bene non è vero adesso sei il più bravo si si va bene poi quando in un'altra vita poi io ho anche un bel fisicaccio un bel vicino poi non li parleremo